Domenica sarà tempo di playoff per la Torres che dal finale trilling del campionato all'inizio del ritiro a Castelsardo sembra aver staccato le spine dell'alta tensione, volti sereni e brillantezza di gioco hanno caratterizzato il giovedì della partitella contro la formazione Berretti nemmeno le vicende relative all'addio di Capitan Cabecia che ha preferito scontare una squalifica piuttosto che patteggiare una multa in denaro ritenuta troppo onerosa, sembrano aver scalfito l'umore dei rosso-blu. Il neo capitano Simone Guerri commenta il momento Sono situazioni che nel calcio capitano, non mi sento comunque di entrare nella questione proprio specifica sappiamo che succede ma noi comunque siamo dei professionisti quindi pensiamo solo alla Torres e a vincere con il Forlì Ma come si affronta una sfida così importante? Si giocherà su episodi, su una giocata, sull'equilibrio quindi dobbiamo tenere la testa sulle spalle e prepararle in modo tranquillo e sereno Mister Cari schiera a sorpresa a Ferrario davanti con Lisai e Ciotola esterni, il ritrovato Filippini sulla tre quarti Bottone Guerri a centro campo e una difesa con i centrali Di Maio e Migliaccio, Cortellina a sinistra e Capogrosso a destra in porta Leone Nella seconda frazione in evidenza potenza, Scarpa è schierato sulla destra, Bonvissuto Infantino davanti Foglie bianche a centro campo, dietro tutti recuperati compreso Benedetti in campo con Cosentino al centro Bolzano a sinistra tra i palettrini, a destra aggregato la prima squadra dopo l'addio di Cabeccia Il giovane Oggiano, promettente terzino del vivaio cresciuto agli ordini di Mister Boncore Ma c'è un'idea di futuro anche per la prima squadra? Si, nel senso che ognuno di noi spera e nello spogliatoio meno c'è la convinzione Stiamo lottando perché vogliamo rimanere qua in questa società Sono stati fatti tanti sacrifici da inizio anno, molte persone hanno rinunciato anche a tenere la famiglia lontana Ci sono tanti sacrifici che magari la gente non avverte, però ci sono La squadra vuole raggiungere il risultato perché i più vogliono rimanere in questa squadra il prossimo anno Arbitrerà la gara Torres Forlì, fischio di inizio re 16, il signor Illuzzi di Molfetta